se ci sono delle domande buonasera allora io volevo fare una domanda di questo tipo allora il 26 di maggio ci arrivano le cifre definitive il fronte anti euro ha vinto strategicamente allora politicamente ed economicamente quali saranno le fasi per uscire dall'euro e avere una propria moneta che possiamo svalutare come ci ha detto il professor borghi poco fa quindi mi piacerebbe avere la risposta politica da matteo e la risposta economica dal professore grazie allora comincio comincio con no beh dai facciamo una volta così comincio con la risposta economica allora ci sono dei piani di battaglia già pronti vale a dire non siamo fessi e quindi non è che arriviamo poi dopo l'eventualità di arrivare al momento del dunque e dire adesso cosa facciamo ci parliamo con gli altri economisti degli altri paesi in particolar modo con i francesi molto in modo tale da cercare di coordinare per quanto possibile le azioni perché perché smontare l'euro non è semplicissimo perché è stato congegnato a camicia di forza immaginiamolo come una pila di monete la maniera più facile per riordinare una pila di monete e rimetterle in tasca tutte e toglierle dall'alto quindi il modo più semplice che si potrebbe fare domani è se la germania se ne uscisse e poi dopo man mano tutti i vari paesi forti escono dall'euro a quel punto noi non ce ne accorgiamo neanche più perché non ci sono neanche più i rischi relativi ai comportamenti irrazionali delle persone che a un certo punto possono essere presi dal panico e dire oddio ma che cosa succede perché se domani arrivano quelle bugie che ci hanno detto prima le cavallette tutte quelle cose lì allora cosa faccio allora viene fuori confusione cosa succede quindi sarebbe opportuno smontarlo dall'alto e penso che sia tutto sommato quello che succederà se l'europa diventa anti euro a quel punto la germania che non è fessa capisce che il progetto è fallito ha incassato tantissimo da da quest'unione tantissimo perché se guardiamo la differenza tra quanto la germania ha esportato e quanto ha importato siamo nell'ordine dei duemila miliardi quindi immaginate la germania ha invaso il mondo con prodotti soprattutto l'europa con prodotti per duemila miliardi no in più rispetto a quelli che ha importato e a quel punto può decidere di tenersi guadagni e di andarsene alla chetichella no tipo tavolo da poker cioè a un certo punto l'effetto sarebbe sono a un casino sto vincendo tantissimo c'ho davanti a un certo punto vedi che al tavolo tutti cominciano a tirare fuori delle pistole allora a quel punto a uno forse gli viene da dire ma guarda forse il caso che me ne vadano quindi io probabilmente credo che si smantellerà così no cioè vale a dire la germania se ne va e poi tutto diventa ordinato no se così non deve essere per la maniera per togliere le monete che stanno in basso alla fila è il colpo secco io devo prendere proprio un colpo di coltello no dagli tum no gli do il colpo secco la moneta esce fuori e quindi le procedure per uscire dall'euro in modo autonomo quindi non concordato che sarebbe l'ideale però ma autonomo devono essere un po segrete innanzitutto perché devi dargli il colpo e e preparate con un minimo di anticipo lo stiamo facendo e anzi la gran parte sono già se uno va bene non sto dicendo nessun segreto comunque se uno volesse andarsi a leggere un una prima ipotesi diciamo così di quello che uno può preparare il francese che l'ha pensata si chiama un grande economista si chiama jacques sapire l'ha postata io non l'avrei fatto sinceramente comunque se va su internet trova il piano di sapere per con proprio con leggi cose così questo tipo per per passare ce l'abbiamo però va fatto in modo un po brutale ecco però dopo dopo uno è libero e non c'è più problema il cambio bisogna ecco questa è una fonte di una grossa fonte di confusione perché si fa confusione fra conversione e cambio vale a dire la conversione il livello a cui la vecchia moneta viene cambiata con quella nuova è a piacere uno magari può pensare che sia una idiozia ma invece così facciamoci caso se io cambio domani a un certo punto per decisione concordata del dei governi europei si decide che l'euro è troppo perché con i centesimi non va bene si dice che il nuovo euro che viene fatto domani vale un terzo dell'attuale tutto viene cambiato a un terzo vale a dire che se io ho uno stipendio adesso di mille euro ne avrò tre mila ma d'altra parte anche il caffè invece di costare un euro ne costerà tre tutto sarà cambiato non cambia niente però viene convertito no in ragione di tre a uno tre a uno cambia qualcosa no posso farlo con cinque posso farlo con sette posso farlo con dieci se ne parlava i tempi della lira non so se vi ricordate la lira pesante no si diceva craxi si diceva facciamo una una nuova lira pesante per mille lire no similiare quello è un tasso di conversione quando siamo passati dall'euro alla lira quel tasso stupido 1936 virgola 27 è stato deciso a tavolino perché è stato deciso così perché doveva essere una proporzione che andrà che mettesse d'accordo tutti gli altri fosse cambiata la proporzione anche in rapporto agli altri poteva essere un numero differente vale a dire invece di fare 1397 avessero fatto 900 a quel punto poi dopo il marco tedesco invece di essere due marchi uguale un euro sarebbe stato un marco uguale un euro e non cambiava niente no perché veniva deciso a tavolino quindi il tasso di conversione viene deciso a tavolino e la cosa più ovvia tutti dicono che ovviamente la cosa più logica essendo che sei libero di deciderlo è uno a uno in modo tale che così non avrai più il casino che c'è stato per passare da mil da da 1936,27 a 1 quindi cosa succede succede che la tua rata del mutuo era 300 euro diventa 300 fiorini ducati chiamiamola come vogliamo così questo tipo il caffè da un euro diventa un ducato un fiorino così questo tipo e non cambia nulla se uno provasse alzare i prezzi in modo furbesco no quindi il giornale invece che un euro e venti cambiamo diventa un fiorino diventa un euro e 40 non lo compriamo un fiorino e 40 non lo compriamo in questo momento la gente non può comprare cose con soldi che non ha se in questo momento i commercianti non è che stanno facendo un regalo ai prezzi attuali sono il massimo per riuscire a vendere qualcosa se uno provasse alzarli i prezzi la gente non la compra le cose no molto banalmente quindi non è che può succedere chissà che cambia allora il fatto di cambiare uno a uno comporta che sgami subito se per caso qualcuno fa il furbetto oppure no poi dopo diverso è quanto questa moneta che io intasca vale nei rapporti con le altre monete ma quello signori noi non è che ci perdiamo i sonni vale a dire in questo momento l'euro è 1,40 sul dollaro no è stato anche 1 è stato anche 0,90 noi non è che ci svegliamo la mattina e siamo più ricchi più poveri a seconda di quanto l'euro oscilla nei confronti del dollaro stessa roba succederà con la nostra nuova moneta nei confronti delle altre monete vale a dire ci sarà qualcosa contro cui svaluterà segnatamente il marco tedesco nuovo varrà di più rispetto a quello che vale in proporzione l'euro adesso ci sarà qualcosa con cui rivaluteremo vale a dire la dracma greca futura varrà di meno rispetto alla nostra moneta no quindi ritornerà un po' quel simpatico sistema dove la macchina tedesca magari costava un po di più e la vacanza in grecia costava un po di meno o cose di questo tipo però i nostri prodotti in media rispetto al nostro competitor principale vale a dire che la germania ma in generale anche rispetto al resto del mondo cina giappone cose di questo tipo saranno più convenienti questo cambio cosa comporterà comporta che ci costerà un po di più far la vacanza all'estero sì ci costerà di più far la vacanza all'estero vale a dire adesso è 1 e 37 l'euro dollaro va uno a uno che è la parità che piace molto alla mia amica francesca in prima fila quindi un euro una fiorino nuovo no uguale un dollaro e beh significa che adesso andare a fare la spesa a new orleans ci risulta conveniente in futuro ci risulta meno conveniente andare a fare la spesa a new orleans ma c'è qualcuno che va a comprare le sigarette a new orleans qua in questa sala o a new york penso di no quindi si costerà un po di più andare a fare la vacanza a berlino costerà molto di meno per il tedesco venire qua in vacanza a jesul e a quel punto anzi magari ci ritorna perché adesso siamo fuori mercato di quanto siamo fuori mercato della percentuale che svaluteremo di quello che quello che svaluteremo che sarà il valore giusto non svalutato noi in questo momento siamo rivalutati abbiamo una moneta troppo pesante non è che andiamo a svalutare che suona male che suona povero che suona andiamo a riallineare il cambio alla nostra valuta normale e se sarà meno 30 per cento rispetto all'attuale è quello che il nostro listino prezzi sarà più conveniente rispetto agli altri tutto qui oltre al problema euro con la conversione a una moneta dello stato c'è il problema della banca d'italia dell'italia rimane sempre dei banchieri o ritorna allo stato perché se il batter moneta è riservato ai banchieri signori non cambia niente uno due lo sapete che la liri gruber e de gasperi sono tutte due bildenberg anche de gasperi qualcuno lo sapeva sapete qual è lo scopo reale della crisi è ammazzarci tutti leggetevi maurizio blodette li ha dai fiera di soluzione grazie grazie allora la la banca d'italia allora la banca d'italia e qui non voglio come dire fare allargarmi troppo su programmi politici posso dire cos'è una mia opinione poi dopo sta ovviamente al politico poi dopo decidere la mia opinione che la banca d'italia debba essere totalmente pubblica perché mi risulta totalmente stupido questo mondo di persone irresponsabili allora scusate voi se chiedete l'indipendenza finite in galera perché è una cosa brutta le cose che importano loro devono essere indipendenti dove indipendente vuol dire irresponsabile la magistratura la banca d'italia cioè tutte queste simpatiche istituzioni devono essere sottratte a qualsiasi controllo vostro non c'entrate un cazzo voi dovete perché siete stupidi e poi dopo magari votate nella maniera sbagliata quindi diventano indipendenti che si intende autoreferenziale vedete come vogliono fare il nuovo senato no nominato con 21 persone nominate dal presidente della repubblica 21 l'intento è sempre quello creare dei centri di potere che siano non nominati da nessuno se noi andiamo in crisi veniamo veniamo governati dalla troica e la troica qualcuno l'ha mai votata oggi ci sono le votazioni della troica fondo monetario internazionale che figurarsi banca banca centrale europea draghi va bene italiano ma qualcuno l'ha mai votato direi proprio direi proprio di no e commissione europea che non è votata da nessuno e anzi oggi quel brillante genio no che la guida no tale varrompui che immaginate se ci fosse stata anche l'elezione del suo condominio questo l'avrebbe persa quindi capite anche perché no li congegnano no queste queste cose perché servono a mettere quelli che servono nel posto cioè su base europea prodi sarebbe mai stato votato eppure no vedi vedi come va a finire allora cosa succede succede che queste persone vengono messe poi dopo in posizioni di controllo perché non sono democraticamente attaccabili e invece mi sembra che la lega sia una forza che ha come fondamento la democrazia tanto da dire che apprezza l'autodeterminazione dei popoli che è massima forma di democrazia a un certo punto uno dice libero di scegliere come che cosa voler fare quindi dal mio punto di vista la banca d'italia deve essere totalmente statale in modo tale che ci sia un controllo e una responsabilità da parte di chi la governa che deve essere a servizio del cittadino e non a servizio di altri interessi quindi che risponda del suo operato e dirò di più anche per venire incontro a esigenze di chi legittimamente ambisce anche a sistemi utopistici e sognatori un po' come la proprietà popolare della moneta no e cose di questo tipo mi piacerebbe che la futura banca d'italia fosse avesse un capitale non come adesso dato in pasto ai privati con una legge anche questa fatta di soppiato no con 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 poca opposizione da parte dei soliti noti no invece tutti allineati per dire facciamo la rivalutazione delle quote delle banche d'italia dei privati cosa assurda no ma fosse che ogni azione della banca d'italia fosse data per diritto di cittadinanza a ogni italiano quindi alla fine uno nasce a una un'azione inalienabile della banca d'italia per ricordare che la produzione del denaro italiano è suo tutto lì abbiamo un'altra domanda qui sì buonasera a tutti quanti io faccio parte come borghi salvinistano del movimento base italia che ha indetto il referendum per l'uscita dall'euro ho già posto prima una domanda al professor borghi il referendum è fattibile per il movimento base italia perché abroga una legge ordinaria dello stato il professor borghi prima ha detto che secondo lui non è possibile perché tocca i trattati internazionali la mia domanda è questa ne ho più di una quindi ne faccio le faccio tutte e tre insieme se si può uscire dall'euro con un decreto legge ok o eventualmente si può proporre un'interpellanza parlamentare il decreto legge significa che abroga la legge precedente è fattibile comunque fare un decreto legge un'ulteriore cosa mi riferisco al trattato di lisbona il trattato di lisbona è stato approvato in parlamento anche dalla lega a suo tempo il trattato di lisbona che in sostanza nonostante porti il nome trattato molti di noi sanno che di fatto è una costituzione illegittima di un governo illegittimo che di conseguenza un attimo ha un parlamento illegittimo perché le leggi europee sono tutte decise dalla commissione europea e il parlamento europeo ha di conseguenza un margine di manovra praticamente quasi nulla ora la mia domanda è questa come la lega nord politicamente vuole uscire dall'euro e un'altra cosa in riferimento alla lettera che francesco modeo ha pubblicato denunciamo l'arma del delitto senza denunciare il colpevole ok allora per la parte politica vi dico allora per il referendum non si può fare no adesso abbiamo già sufficiente carne al fuoco allora per il referendum il referendum allora chiariamo chiariamo una cosa il passato è il passato e questo problema è stato analizzato da me e da salvini a partire da luglio se non mi ricordo male dell'anno scorso in dettaglio quindi può essere che magari prima ci fossero delle buone intenzioni ma non ci fosse il dettaglio poi dopo del come e perché il referendum non si può fare non si può fare chi dice e quindi io sono pur prendendo la metto meglio io di solito tutti quelli che vogliono sovranità monetaria sono miei amici io cerco con con tutte con tutte le sfumature no normalmente che ci sono mi prendo anche delle torte in faccia discrete perché normalmente chi vuole sovranità tanti movimentini o movimenti o di questo tipo vogliono sovranità monetaria e qualcosa no e allora per marcare la differenza si arriva torta in faccia sulle e ma tu non parli di questo e ma tu non parli di quell'altro cose di questo tipo allora sta buono quindi io normalmente non litigo mai no perché uno dice però devo purtroppo dire che il referendum lo avverso fortemente perché fa perdere tempo nel senso illudersi che si possa fare un referendum invece di andare a perseguire un'alleanza internazionale che ci porti fuori o che riesca a portare come diretto obiettivo l'uscita dall'euro allora purtroppo il referendum non è di queste soluzioni è vero che l'euro è stato introdotto con legge ordinaria ma c'è già tutta la giurisprudenza del caso che vi dice che qualsiasi legge ordinaria anche solo relata a un trattato internazionale viene cassata e non è oggetto di referendum è già stato visto con l'immigrazione no c'è stata una legge che era appena appena da lontano relata al reato di immigrazione è stata cassata per l'idea di fare un referendum perché non si poteva poi nella corte costituzionale ci ha amato figuratevi che cosa che roba vi dà sul referendum è stato messo lì apposta per controllare che non ci fossero cazzate si esce per decreto si si esce per decreto si prende esattamente la stessa legge che è stata fatta per passare dalla lira all'euro cambiando i nomi e il decreto legge è immediatamente esecutivo non c'entra niente col referendum non è che è un potere superiore il referendum rispetto a un altro il referendum può abrogare una legge ma lo stato lo può fare d'imperio subito cioè non c'è una legge che non può abrogare lo stato no lo può fare subito tranne cose costituzionali ma un trattato europeo può essere rescisso domani con tutte le conseguenze del caso no perché ovviamente poi ci possono essere delle relazioni ma un governo in carica può con un decreto legge uscire dall'euro domani quindi se volesse il nostro se la lega fosse al governo e fosse determinante volendo potrebbe forzare domani il passaggio alla nuova moneta nazionale non è al governo purtroppo e quindi questo non non si può fare per il resto su come politicamente farlo posso anche lasciare lasciare dire a matteo ma il discorso è molto banalmente questo vale a dire si esce dall'euro si uscirà per decreto l'unica differenza sarà se dovremo subire questa mossa perché si sveglierà qualcuno prima e noi dovremo adeguarci tipicamente esce la francia e quindi allora dobbiamo adeguarci noi no uscendo per decreto rispondendo alla mossa di un altro o concordarlo questo è l'unico punto ma si esce per decreto non si esce in nessun'altra maniera di sicuro non certo con un referendum che anche anche qualora fosse possibile farlo immaginate che cosa succederebbe cioè nel mentre che si fa campagna referendaria per il referendum per uscire dall'euro dato che lo spread è governato da loro avremmo lo spread a 100 mila no vi direbbero avete visto guardate cosa sta succedendo media che manderebbero 24 ore al giorno immagini di cavallette e locuste terremoti no che sono quelle che succedono e quindi tutti andrebbero a votare sì che ci piace la 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 schiavitù no si esce per decreto poi rispondo volentieri su lisbona intanto c'è luca che signora poi le rispondo se ha la pazienza di ascoltare oltre che di parlare una bella cosa grazie va bene può signora permette che parli il signor zaia se a tempo facciamo dire due cose anche a luca zaia poi le rispondo volentieri su lisbona sì grazie innanzitutto grazie mi scuso per il ritardo nel senso che io arrivo da roma come tu sai e oggi abbiamo discusso delle solite partite il titolo quinto della costituzione che significa in soldoni che vogliono svuotare di competenze le regioni il che significherà che tra qualche anno che ospedali aperti di notte sarà roma che decide come dovranno curarsi veneti tanto per dire quindi qua in sordina si sta discutendo una partita che è importante però volevo anche ringraziarti non lo faccio per piageria perché vedo il tuo la tua agenda dei lavori io penso che non tu non perda solo la voce se va avanti così cerca di no no ma lo dico lo dico lo dico come si dice delle mie parti vai a casa prima la sera e grazie per quello che fai adesso al di là delle battute grazie perché la lega aveva bisogno aveva bisogno di una botta di vita e quindi è arrivata dico due robe c'è un convitato di pietra io ma da di uvando non le dico queste robe sull'euro penso che il convitato di pietra sia quella parte d'italia che è tecnicamente fallita perché noi non saremmo qui a fare discorsi sull'euro se non avessimo mezza italia che ha i libri da portare in tribunale che è fatta di fannulloni di cialtroni di gente che si mangia tutto quello che nord produce perché è quello del quale dobbiamo discutere lo dico e lancio mi permetto di lanciare uno spunto a professor borghi penso che ci sia una partita che è stata un attimo trascurata potremmo dire le faccio la domanda che il nord starebbe tranquillamente nell'euro se non ci fosse il sud Italia punto di domanda ovvero la verità è questa io penso che noi abbiamo un problema paese che è un problema irrisolvibile che dovremmo cominciare a mettere i puntini su lei che dovremmo anche dire che benvenga la lira ma nel momento in cui avremmo la lira si resta la palla al piede perché una palla al piede che comunque noi ce l'abbiamo lo dico perché noi veneti siamo meglio della baviera noi non abbiamo nulla da invidiare i tedeschi però è altrettanto vero è altrettanto vero che il momento è questo dall'altro vedendolo dal mio osservatorio penso che c'era Scola adesso ce l'avete voi il cardinale Scola Scola diceva che questa è una crisi delle coscienze oltre che essere una crisi economica io ci metto anche che è una crisi del modello democratico questo modello di democrazia non funziona più questo modello di democrazia non funziona più è la democrazia dei veti è la democrazia dei tecnocrati che comandano a prescindere dal fatto che non siano stati votati perché poi questo è quello che ci troviamo davanti è la democrazia della Banca d'Italia che decide noi avremo un'assemblea sabato mattina abbiamo il terzo polo bancario italiano che è Veneto Banca e Banca d'Italia manda gli ispettori decide che dobbiamo cambiare l'amministratore delegato il presidente, tutto consiglio di amministrazione e noi ovviamente non stiamo lì suppini ad accettare queste cose io ho l'impressione che dovremmo fare una grande battaglia che non si concluderà solo con il no euro con la partita del no euro noi siamo pronti, abbiamo le amministrazioni dico un'ultima cosa lo dico bene, approfitto qua c'è l'80% dei dirigenti della Lega e la Regione eccolo qua Caner la Regione è un provvedimento che sta portando avanti sull'indipendenza però è una roba seria nel senso che il sentimento dell'indipendenza e dell'autonomia il sentimento dell'indipendenza e dell'autonomia è ubiquitario cioè è diffuso tra i 5 milioni di Veneti dico indipendenza perché significa la secessione del Veneto dall'Italia e l'autonomia perché significa avere uno statuto come quello che hanno a Bolzano 9 decimi del tasse restano qui allora il Consiglio regionale interessato a questo sono 6 mesi che hanno a legge in discussione voglio dire che noi non è che siamo gli ultimi arrivati e che rincorriamo qualcuno lui ha avuto ragione prima di noi ci battiamo perché 24 persone non devono essere processate le loro idee però è tanto vero che lo dico ai militanti nella riunione anche dei dirigenti che è bene sapere che quello è il nostro marchio che quello è il nostro marchio quando si leggono quando si legge giustamente io penso Matteo ha detto una cosa poi chiudo penso che nel prossimo la fortuna abbiamo una fortuna fra dieci mesi in Veneto si va a votare quindi io spero che fra dieci mesi non ci siano forze extra parlamentari in Veneto è bene che tutti espongano le proprie idee si organizzino facciano la campagna naturale che vogliono si allenano con chi vogliono però alla fine il Veneto dovrà avere una nuova coalizione una nuova squadra ed è bene che siano rispettate le idee di tutti però è tanto vero che dobbiamo prendere atto anche che c'è chi dice che correrà contro di noi finito il momento di salvataggio poi ognuno va per la sua strada cioè non è che sbaglia la strada attenzione che noi non abbiamo mai sbagliato la strada tutto qua grazie buonasera a tutti una risposta al volo ringraziando Luca e usando l'ultima voce che rimane sul trattato di Lisbona è stato l'unico che ha conferito qualche potere effettivo reale concreto in più al Parlamento Europeo che adesso può co-decidere ovvero sia decidere insieme su alcune materie che prima erano di esclusiva e solitaria competenza della Commissione Europea quindi se il Parlamento Europeo contava zero virgola adesso qua c'è l'amico Scottà c'è Francesca Donato candidata c'è Mara Bizzotto c'è Lorenzo Fontana con cui abbiamo fatto tante battaglie grazie al trattato di Lisbona che ha luci e tante ombre per carità di Dio però una delle poche luci è che il Parlamento Europeo conta e può dire dei no e può rispedire indietro delle leggi che fino a ieri invece poteva solo su cui poteva solo dare un parere consultivo si diceva sì va bene si diceva no va bene lo stesso quindi la battaglia della Lega ventennale evidentemente è per dare potere all'unico organismo democraticamente eletto in Europa che è il Parlamento Europeo detto questo la via politica è chiaro che se il 26 maggio l'Europa si risveglia non con 30 euro scettici adesso siamo in 30 su 700 è chiaro che in 30 su 700 fai la battaglia che fai ti va bene una volta e ti va male le altre 99 volte se invece di essere in 30 su 700 fra padani austriaci finlandesi svedesi danesi polacchi francesi inglesi fossimo in 200 su 700 e da lì devi passare perché lì sì che si devono mettere tutti insieme PD Forza Italia Schulz Juncker e tutti quanti ma 30 li puoi bypassare 200 no e se il front nazionale il 26 maggio è primo partito in Francia nessuno mi toglie l'idea del fatto che la Francia va a votare velocemente e se il movimento per la liberazione dall'euro comunque sia connotato io sono d'accordo chiunque si batta per uscire da quella gabbia di matti che l'euro è mio amico poi ci dividiamo dopo però prima vivere e poi filosofare quindi il 26 maggio i francesi hanno più palle di noi e quindi sicuramente andranno per la loro strada austriaci olandesi stanno dei sondaggi faranno la stessa la stessa scelta gli inglesi idem anzi loro sono già fuori dall'euro e se vincono vogliono uscire proprio dall'Europa quindi sono già a un passaggio ulteriore e noi e noi ci infiliamo e noi ci infiliamo poi nessuno ha la sfera di cristallo però io sono orgoglioso del fatto che ci stiamo giocando la partita cioè stiamo provando a giocarci la partita fino a un anno fa serate come queste ce n'erano fino a un anno fa c'era un racconto che è terrorizzante io sono entrato in lega contro gli sprechi del sud contro i falsi invalidi contro i forestali della Calabria per l'autonomia fiscale per l'indipendenza sono andato sul po' però effettivamente quando ti rendi conto che mentre tu ti batti per l'indipendenza del Veneto o della Lombardia o per il federalismo fiscale sopra la tua testa ti stanno disegnando qualcosa che se ne strafotte dell'indipendenza del Veneto perché se va a buon fine il loro progetto noi facciamo l'indipendenza del deserto perché ci si fottono le ultime aziende sane rimaste tu fai l'indipendenza e poi vai a chiedere a Berlino il permesso di poter spendere due lire per l'ospedale di Treviso e allora ti rendi conto che c'è un'emergenza cioè se questo auditorium inizia a prendere fuoco io come prima cosa scappo poi se riesco mi porto via la bandiera però non è che sto lì a decidere sta prendendo fuoco prendo prima la bandiera con Leone la bandiera della Lega o porto via il telefonino prima scappo e poi penso eventualmente alla bandiera quindi prima dobbiamo mettere in sicurezza il tetto e quindi uscire e poi continuiamo con tutte le battaglie della Lega però sentire questo disegno che poi una volta sentito adesso voi tornate a casa e sono sicuro che ciascuno di voi come è successo la prima volta dice cazzo mi era sembrato però effettivamente messo in fila uno due tre quattro è già successo nell'87 è già successo nel 92 è già successo in Grecia è già successo in Argentina io sono convinto che se su Rai 1 dedicassero mezz'ora in prima serata a un racconto come questo il giorno dopo la gente esce col fucile che è già successo